In primo piano Si è svolta il 14 febbraio la seduta straordinaria sui tagli al trasporto pubblico locale, richiesta dalle opposizioni per chiedere e distanziare tutti i fondi necessari a garantire il servizio e presentare il piano triennale in base a quanto previsto dalla legge. Ampio e articolato il dibattito con l'intervento di esponenti di vari gruppi e dell'assessore trasporti Barbara Bonino. In chiusura di seduta è stato respinto l'ordine del giorno sull'argomento primo firmatario Davide Gariglio, Partito Democratico. La scelta della giunta regionale di tagliare le risorse per il trasporto pubblico locale è una scelta che non condividiamo assolutamente, che rischia di penalizzare la qualità della vita dei cittadini piemontesi, rischia di penalizzare le imprese che si occupano di trasporto e il futuro dei lavoratori di queste imprese. Ed è per questo che abbiamo chiesto con questo Consiglio straordinario e chiederemo in discussione di bilancio di cambiare queste decisioni, di trovare le risorse necessarie per garantire il futuro del trasporto pubblico locale, un settore importante e determinante per tutti i cittadini piemontesi. Mancano ingenti risorse, sono diminuiti i trasferimenti da parte dello Stato e quindi bisogna ripensare al trasporto pubblico locale. Certo, bisogna essere comunque meno torinocentrici, salva guardare le zone periferiche del Piemonte Nord e del Piemonte Sud, soprattutto quei territori dove il trasporto viene asservito a quelle fasce più deboli della società civile. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.